Sono ovviamente molto contento, molto felice signori perché è una cosa che ho già detto tante volte e cioè che quando si vince un trofeo bisogna esultare, bisogna gioire, bisogna festeggiare perché non sai mai quando poi sarà il prossimo, no? È una cosa che ho detto quando abbiamo vinto la Supercoppa proprio a Reggio Emilia contro il Napoli questo inverno perché non c'era la possibilità magari di andare a vincere un altro trofeo lo scudetto purtroppo è andato all'Inter e noi ci dobbiamo accontentare della Coppa Italia che è sicuramente un buon modo per concludere la stagione ma la stagione della Juve come ben sappiamo può concludersi in un'altra maniera domenica contro il Bologna dobbiamo cercare di mettere la testa a posto e vedere come andrà tanto bellissime immagini con tutti i ragazzi che festeggiano, ridono, esultano, tutti felici sono contento e vi invito a lasciare un mi piace per festeggiare insieme a me e ovviamente a scaricare OneFootball, il link è qui sotto in descrizione andate a scaricare OneFootball ragazzi perché ci saranno tanti modi per festeggiare questa Coppa Italia e ci saranno tanti modi per capire come arriveremo a domenica quando saremmo costretti tra virgolette poi a tipare l'Atalanta perché il calcio è anche questo sembrerà una paraculata però mi dispiace un po' per l'Atalanta perché è una squadra veramente fantastica veramente una gran squadra che gioca un bellissimo calcio con una grandissima intensità nel primo tempo ci ha messo sotto più e più volte nei primissimi minuti di gioco non meritavamo assolutamente lo 0-0 abbiamo rischiato di andare sotto e il fatto che loro non abbiano praticamente mai vinto un trofeo un po' mi dispiace non ci fosse stata la Juventus in finale avrei assolutamente sperato di vedere l'Atalanta vincitrice ovvio che quando poi c'è la tua squadra nel cuore non puoi fare altro bellissimi anche questi momenti in cui festeggiano Buffon lanciano Buffon l'ultimo trofeo con la maglia della Juventus lo dicevo nel pre-partita 19 maggio del 2012 l'ultima partita di Alessandro Del Piero con la maglia della Juventus finale di Coppa Italia persa contro il Napoli 19 maggio 2021 ultima partita con Buffon con la Juventus poi magari giocherà a Bologna vedremo Coppa Italia vinta quindi c'è questa data 19 maggio a distanza di 9 anni che torna per i due storici capitani della Juve e il 19 maggio ovviamente compleanno anche di Andrea Pirlo tanti auguri mister l'avevo già detto anche oggi su Instagram oggi si porta a casa la Coppa Italia e si fa da solo il più bel regalo in assoluto sono contento e sono contento soprattutto perché prima della partita quando qualcuno mi ha chiesto un pronostico ho detto guardate pronostico non lo so sarebbe veramente molto bello però riuscire a vincere la Coppa Italia con i gol di Chiesa o di Kuluseski detto fatto è andata esattamente così la Juventus come dicevamo prima ha fatto un primo tempo non stupendo dove l'Atalanta ha veramente fatto la partita sotto ogni punto di vista con un Zapata in grandissimo spolvero che Chiellini e Delita hanno tenuto molto molto difficili in maniera complicata sono stati veramente in difficoltà nel giocare a uomo contro Romana Zapata guardate Buffon guardate Buffon che va a abbracciare chi sono tifosi non lo so non lo so e invece nel secondo tempo c'è stata una grande reazione da parte della Juve ha fatto un grandissimo secondo tempo la Juventus doveva trovare addirittura il palo con Federico Chiesa su quel bellissimo attacco di Cristiano Ronaldo una delle poche giocate buone della partita di Ronaldo ma questo è un discorso che viene in secondo piano noi adesso stasera dobbiamo festeggiare portare a casa il trofeo essere contenti perché in una stagione così brutta così delutente da parte della Juventus comunque due trofei ce li siamo portati a casa abbiamo avuto l'occasione due volte di festeggiare certo non è lo scudetto certo non è la Champions se non abbiamo festeggiato il decimo di fila non abbiamo festeggiato la terza coppa delle grandissime occasioni no non è stata quell'annata è stata un'annata livellata verso il basso dove comunque due trofei ce li siamo portati a casa e dove ovviamente l'obiettivo principale adesso diventa cercare di entrare in Champions League ma questo purtroppo non dipende solo da noi dipende anche dall'Atalanta e sono sicuro che l'Atalanta farà una grandissima partita contro il Milan poi il risultato può essere anche a favore dei rossoneri perché il calcio ovviamente non è una scienza esatta noi dovremmo cercare di vincerla con la partita col Bologna e sperare di vedere o l'Atalanta o l'Elas Verona portare via almeno un punto alla diretta concorrente di quest'ultima giornata ragazzi ultima partita di Buffon potrebbe essere potrebbe essere sicuramente l'ultima finale di Buffon potrebbe essere l'ultima finale di Chiellini potrebbe essere l'ultima finale di Bonucci l'ultima finale di Ronaldo l'ultimo trofeo di Pirlo con la Juventus quindi ci sono tanti dubbi ci sono tanti giocatori che sono in bilico ma veramente stasera la cosa bella oltre all'atteggiamento della Juventus torno a dire che se avessimo giocato tante partite quest'anno che sono state disastrose tanti punti che aveva lasciato per strada con questa voglia questo atteggiamento questa grinta questa concentrazione questa cattiveria la classifica sarebbe completamente differente non si starebbe parlando di una Juventus che all'ultima giornata deve andare a sperare nel miracolo per accedere alla Champions League sarebbe stata tutta un'altra stagione purtroppo è andata così Pirlo che stupisce con con Kulusevski dal primo minuto invece che Di Valo Morata e poi Kulusevski è il migliore in campo e anche questo signori è il bello del calcio e sono quelle cose che poi ti fanno dire allora allora vedi che qualcosina c'è però dicevo per tanti giocatori che potrebbero salutarci potrebbero andarci è una cosa veramente bella e sapere che questa sera la partita l'ha risolta i due ragazzi arrivati nel mercato estivo i due ragazzi che devono essere anche il domani della Juventus Federico Chiesa e Dejan Kulusevski 100 milioni investiti dalla Juventus per questi due ragazzi che però questa sera hanno assolutamente fatto vedere le loro qualità bellissimo passaggio di Kulusevski per il gol di Chiesa e sono veramente contento per questa cosa in principio perché è una Juve questa qua signori che è inutile le palle ce le ha non le ha tirate fuori durante questa stagione le sta tirando fuori in questo finale e speriamo che questo ultimo sforzo possa essere sufficiente per mettere una pezza su una stagione che vogliamo dimenticare al più presto una stagione dai quali vogliamo tenerci dei punti fermi appunto questi due ragazzi vogliamo tenerci De Lito vogliamo tenerci Danilo vogliamo tenerci Quadrado vogliamo tenerci tanto stasera Bentancur ha fatto una partita incredibile non ci sarà con il Bologna perché sappiamo bene che è stato squalificato e espulso contro l'Inter tra le mille polemiche che ci sono state in settimana stasera fa una grandissima partita Bentancur e ancora una volta ci viene da interrogarci e ci dobbiamo chiedere ma allora qual è il vero Bentancur quello che l'anno scorso con Sarri ha fatto una super stagione o quello che quest'anno non ha fatto per niente bene tanto vedo che Chiesa vince il premio migliore in campo anche se secondo me assolutamente merito andrebbe a Kuluseski e domani ne parlerò nei pagelli signori godetevi questa serata volevo essere allo stadio è stato bellissimo vedere anche il pubblico finalmente un po' di normalità non vedo l'ora di tornare veramente a sostenere a cantare urlare a saltare insieme ai ragazzi per provare a dare quella piccola dose di tifo quella piccola dose di sostegno anche dal vivo perché è una roba che sta iniziando sinceramente a mancarmi non potevo chiedere di meglio da questa serata spero che anche voi siate contenti e soddisfatti non tanto del profilo tattico perché poi quelle cose lì quando vinci il trofeo secondo me passano tutte in secondo piano io questa sera mi ricorderò solo che la Juventus ha vinto ha vinto la Coppa Italia se la porta a casa e il prossimo anno non ci sarà lo scudetto sulle nuove maglie che hanno debutato questa sera e sono bellissime secondo me ma una piccola coccarda un piccolo cerchio con il tricolore italiano quello ci sarà perché stasera siamo campioni della Coppa Italia fino alla fine Forza Juventus buona serata a tutti buoni festeggiamenti forza Juventus